Cari amici, questo è ciò che è il Vangelo di oggi, è che Maria ci viene a donare come modello di vita, come modello del cristiano. Lei è benedetta non solo perché è stata scelta da Dio e perché nel suo grembo viene portato il Salvatore, ma è benedetta innanzitutto perché da persona umana, da nostra sorella, potremmo dire nella fede, ha accolto, ha aderito, ha creduto alla promessa di Dio. Anche noi con Maria, in Maria possiamo essere benedetti oggi. Ecco l'insegnamento di oggi, di questo Vangelo e di questa festa della visitazione di Maria a Elisabetta, che possiamo anche noi quindi essere benedetti perché accogliamo, crediamo nel Verbo di Dio. Benedetto chi accoglie la parola.